All'obiettivo è l'incer, quindi qualche anno mi sembra esagerato, poi se non ci riusciremo noi ci riuscirà qualcun altro, però se io voglio stare qua devo dire che la sera è la sera della teca pro, questo credo che sia chiaro. Già, che è l'obiettivo dell'anno prossimo, lo spero perché non mettiamo.